E quindi anche questa sera, visto che abbiamo giocato con loro protagoniste, sentiamo anche le nostre giovani che questa sera hanno avuto spazio e anche punti. Ma sì, giovani sì, dai. E loro sono giovanissimi. Loro sì. Iniziamo da Alice e Lafranchi. Alice, vabbè, tutto facile stasera, dai. Ma facile non c'è mai niente in realtà. Anzi, sono le partite più difficili queste perché bisogna mantenere la concentrazione per non adattarsi, diciamo, al loro gioco, insomma. E quindi siamo state molto brave, secondo me. Siamo riusciti a mantenere i vari che abbiamo creato giocando bene e quindi, insomma, non possiamo che essere contenti. Asia Bonelli, due, tre e se non sbaglio, forse quattro. Non so, io ne ho contati tre. Quanti ne hai fatti? Non li ho contati. Cinque o sei. Addirittura. Beh, sei con soddisfatta. Una bella prova, dai. Sì, sì, dai. Alla fine è stata anche una buona prova di gruppo. Siamo riusciti sempre a tenere alta la concentrazione e l'attenzione. E questo è fondamentale anche in queste partite, soprattutto in queste partite dove l'avversario, diciamo, è un po' più... Eh beh, però tu ti sei ricavata stasera un bello spazio. Sì, sì, sì. Come Alice, insomma, eh? Tutto sommato. Soddisfatta sicuramente? Anche tu, Samantha, ti sei ricavata qualche spazio? No, abbiamo giocato una buona partita, ci siamo stati attenti ai dettagli e abbiamo fatto pochi errori, quindi no, dai, siamo soddisfatti. Obiettivo sia a sto posto, ragazze. Assolutamente. Se noi ci crediamo, noi ci crediamo e... E allora prendiamolo. Assolutamente. Allora salutiamo Samantha, grazie, Asia e Alice. Grazie a questa sera. Ciao. 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 Ciao.